Essere testimoni di giustizia quando cittadini liberi e onesti non si girano dall'altra parte. Questo è lo spunto di riflessione dal quale sono partiti i ragazzi delle scuole secondarie e lecchesi di primo e secondo grado per comporre i propri elaborati. È giunta a conclusione la quarta edizione del premio Paolo Cereda, iniziativa promossa da Libera Associazioni Nomi e Numeri Contro le Mafie e Fondazione Comunitaria delle Lecchese in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Territoriale. Il premio, nato cinque anni fa a ricordo del coordinatore di Libera Lecco, scomparso nel 2017, mette in luce l'impegno dei giovani per la legalità democratica e la cittadinanza attiva. Lo scopo innanzitutto è quello di entrare nelle scuole e di restarci per tutto l'anno. Quest'anno è stata anche un'occasione sperimentale che sembra aver dato i suoi risultati, ovvero proporre non solo una bibliografia, una filmografia e fare come coordinamento lecchesi di libera formazione, dove richiesto con questi ragazzi, ma in aggiunta al tema dare anche degli strumenti che valessero per tutti. Quest'anno abbiamo scelto il tema del testimone di giustizia, abbiamo avuto la fortuna, l'occasione, grazie anche a un libro scritto da tre giornalisti lecchesi, di avere un collegamento telefonico con tutte le classi. Lì dobbiamo fare un grande grazie alle forze dell'ordine. Abbiamo avuto Piero Nava che ha raccontato la sua esperienza, che poi è stata raccontata anche dagli autori del libro e da uno spettacolo teatrale. Questo per dire che abbiamo dato degli strumenti ai ragazzi per tornare a casa, per tornare in classe, parlarne e riflettere. 26 le classi che hanno presentato il proprio elaborato, 5 quelle premiate con un contributo di 1000 euro che potranno utilizzare per attrezzature e attività didattiche. A convincere la giuria sono stati i ragazzi della seconda A della scuola media di Galbiate, la terza C della Stoppani di Lecco, la terza D dell'istituto comprensivo Manzoni di Calozzo e Corte, la seconda B del Parini e del Bertacchi di Lecco. I sogni hanno poi bisogno davvero delle gambe di tutti e noi abbiamo bisogno qui a Lecco dei sogni di questi ragazzi che li hanno tradotti con elaborati tecnici, con dei montaggi video stupendi, dei ragionamenti portati poi su carta in un testo narrativo, dei ragionamenti invece portati con strumenti di divulgazione pensati proprio da lasciare in eredità al coordinamento di Libera Lecco per usarli con i loro compagni più piccoli per raccontare che cos'è stata, che cos'è la mafia anche nel territorio di Lecco, poterla spiegare, analizzare e quindi poterla anche contrastare come cittadini dell'oggi, non solo come cittadini e del domani ma come già parte attiva della società civile di Lecco.